Supportare i comuni e le strutture interne all'ente nelle azioni per la tutela e la pianificazione territoriale è il compito della nuova unità tutela del territorio di cui si è dotata la città metropolitana di Torino a partire dal primo gennaio scorso. Fra le prime azioni dell'unità spicca la progettazione di interventi sul torrente Orco per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e dell'assetto morfologico e ambientale secondo i criteri indicati dall'autorità distrettuale del Po. La città metropolitana e in particolare le direzioni azioni integrate sarà la stazione appaltante di quest'opera. Il valore che verrà dato a questa progettazione particolare è quello di affrontare un progetto in chiave sovracomunale, quindi tenendo conto di aspetti che vanno oltre quelli del singolo comune, ma soprattutto di dare un approccio interdisciplinare perché verrà associata alla modellistica classica idraulica anche quella dei sistemi naturali flora e fauna. Agenzia interregionale per il Po, autorità distrettuale e regione Piemonte hanno previsto l'apertura o la riapertura di alvei abbandonati dal torrente e il rinforzo e il mantenimento delle opere di difesa idraulica. L'obiettivo è di realizzare un alveo pluricorsale che attutisca l'effetto delle piene. Gli interventi sono previsti sulla sponda destra in prossimità dell'abitato di Prato Reggio di Chivasso, dalla località Cascina Bruciata fino a Monte dell'Ansa in prossimità di Prato Reggio, a Monte dell'abitato di Cascina Bruciata, a San Benigno Canavese, a valle dell'attraversamento autostradale della 5 Torina Osta e a valle dell'abitato di Rivarolo Canavese. Grazie.